Musica Protesta dei ristoratori, ancora caos a Napoli, non si placa la rabbia contro l'ordinanza di De Luca. La regione promette più ristori per le categorie danneggiate, ma anche oggi blocchi stradali e traffico in tilt nel capoluogo partenopeo. De Magistris 8 Channel, sindaci lasciati da soli. Il sindaco di Napoli, ospite oggi di punto di vista, critica la strategia di De Luca. Nell'unità di crisi, ignorata la città di Napoli. E su Maresca, candidato sindaco, dice impensabile che un PM in servizio e in procura faccia campagna elettorale. Ginecologo sgozzato, il delitto è un giallo, continuano a 360 gradi le indagini sull'omicidio del dottore Stefano Anzaldi, stimato professionista napoletano di origini beneventane, ucciso a Milano sabato sera. Con il passare delle ore perde però consistenza, l'ipotesi iniziale di una rapina finita male. Sagno, il Covid uccide. L'ex sindaco di Bonea, sconcerto e incredulità. In provincia di Benevento, l'ex sindaco del comune Caudino, Gennaro Paradiso, ha perso la sua battaglia contro il virus. Il medico era ricoverato al Sampio da alcune settimane. Piano vaccini anti-Covid, l'asala Avellino è pronta. Stamane l'annuncio della direttrice generale Morgante, premiata dal sindacato UGL per il suo impegno nella lotta al virus. Intanto il Covid non dà tregua a un'anziana morta a Montoro e altri nove casi a Montefalcione. Ressa per lo shopping, Salerno ignora i divieti. Caos in centro nell'ultimo fine settimana prima del Natale. Fioccano le multe a persone senza mascherina, ma anche a bar e locali che non rispettano le ordinanze. Intanto ancora vittime per il Covid. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. Allora in apertura ancora le proteste che non si placano contro l'ordinanza del governatore De Luca. I ristoratori sono ancora in piazza, traffico in tilt, blocchi stradali. Nel frattempo sul fronte dei contagi la Campania conferma la curva in discesa al di sotto della media nazionale. Vediamo. Nessun passo indietro né da un lato né dall'altro. In Campania continua il muro contro muro tra esercenti in regione. Due giorni di blocchi e proteste che hanno paralizzato la circolazione a ridosso della riviera di Chiaia. New Jersey, bidoni dell'immondizia utilizzati come barriere. Non si placa la rabbia del settore ristorazione contro l'ordinanza numero 98 firmata da Vincenzo De Luca. L'incontro tra i rappresentanti di categoria e l'assessore al commercio Marchiello non si conclude con l'attesa fumata bianca. Palazzo Santa Lucia non ritira l'ordinanza ma, in serata, De Luca fa sapere che potenzierà i ristori per le categorie danneggiate. Saremo vicini e daremo tutto l'aiuto possibile agli operatori la cui attività viene bloccata, ma è doveroso mantenere una linea di rigore e di responsabilità. Le parole del governatore che però non convincono i protagonisti delle proteste. Noi come ristoratori oppure come dipendenti di ristoratori non sappiamo veramente come fare. Si sveglia questo signore due ore prima e blocca tutto senza un motivo. Non ce la facciamo più. Siamo esasperati. Dittatura. Siamo sotto dittatura. La protesta dilaga dappertutto. In Irpina il sindaco di Chiusano sfida la regione e riapre i locali chiusi da De Luca decine le attività che hanno disobbedito, continuando comunque a somministrare bevande. E sono fioccate le multe. Nel fine settimana la Guardia di Finanza di Napoli ha sanzionato 33 persone tra commercianti e cittadini. Intanto sul fronte contagio il rapporto tra infetti e tamponi in campagna resta al 6% al di sotto della media nazionale. Nelle ultime ore il bollettino dell'unità di crisi ha segnalato 891 nuovi positivi e 11 persone decedute. Intanto la regione ha disposto controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino con l'obbligo di quarantena per chi rientra dalla Gran Bretagna. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ospite di Punto di Vista in Onda Oggi su 8 Channel con l'economista Luca Jovine. L'ex PM critica la strategia Ride Luca che penalizza i ristoratori e interviene sulle manovre verso il voto a Napoli. Bocciando la candidatura del magistrato Maresca. Vediamo. Devo dire la verità, ripeto, e quindi non è una valutazione sull'uomo col quale tra l'altro ho un ottimo rapporto e abbiamo un rapporto che non risale solo ai tempi della magistratura ma anche successivi. Però io con molta, in maniera sommessa, umile ma anche come sono abituato a fare, dico sempre il mio pensiero, non ho mai visto per la verità, lo inserirei nell'ottica delle cose impensabili. Che un magistrato soprattutto di procura, quindi un magistrato che ha un faro in questo momento con la sua azione su tutta la città di Napoli possa già fare campagna elettorale in questa città. C'è qualcosa sinceramente che va oltre il pensabile. Per voi sindaci in qualche modo è difficile andare avanti? Siete lasciati da soli? Beh, guardi, la sua considerazione è molto corretta. Lei pensi che la città di Napoli, che poi è il capoluogo regionale, è l'area metropolitana più vasta d'Europa per densità, siamo il 56% della popolazione campana, eppure non sediamo né nell'unità di crisi, emergenza Covid di regione campania, né partecipiamo alle decisioni più complesse e delicate che vengono prese anche da questo punto di vista, ma nemmeno i sindaci di capoluogo di provincia. Tant'è la nostra proposta era stata invitata a Napoli e le città a capoluogo di provincia. Purtroppo ne capisco e ne apprezzo l'intento del sindaci dell'isola di Capri. Hanno ragione, ovviamente, però purtroppo quelle ordinanze sono illegittime. E sulle comunali di Napoli? Il centrodestra è in pressing sul candidato Maresca. Il PM è chiamato a decidere sulla sua candidatura. Anche le toghe in una nota chiedono che faccia subito chiarezza e lui si dimette dall'ANM. Intanto nel centro-sinistra perde quota la candidatura di Roberto Fico. Vediamo. All'inizio di gennaio i leader nazionali del centrodestra incontrino il magistrato Catello Maresca per verificare definitivamente la compatibilità tra il suo progetto civico per il comune di Napoli e il sostegno dei partiti. È questa la richiesta formulata da Fratelli d'Italia alla luce del colloquio telefonico avuto nei giorni scorsi tra il PM Antica Morra e il numero uno, Giorgia Meloni, a cui ha fatto seguito un incontro dal vivo tra lo stesso Maresca e i dirigenti locali del partito. Non è un ultimatum, ma certamente un modo per esercitare più pressing e accelerare la decisione. Ma sul simbolo Fratelli d'Italia non sembra disposta a fare passi indietro. Il PM aveva chiesto di presentarsi con una coalizione tutta civica, cosa che piace invece al partito di Berlusconi pronto a rinunciare alla bandiera pur di tornare a Palazzo San Giacomo. Nel frattempo Catello Maresca ha presentato le dimissioni dall'Associazione Nazionale Magistrati, una mail di poche righe con la quale l'ex PM del pool Antica Morra annuncia l'intenzione di lasciare il sindacato delle toghe, dopo che sia i livelli nazionali che quelli locali dell'ANM gli avevano chiesto di fare chiarezza. Nel frattempo, sul fronte del centro-sinistra, lo scenario è in evoluzione. PD e 5 Stelle per ora confermano la volontà di presentarsi insieme per Napoli, ma non è ancora chiaro se il candidato spetterà ai DEM o ai grillini. Sul nome di Roberto Fico c'era ampia convergenza, ma adesso che a Roma Virginia Raggi è pronta a correre di nuovo, si apre per i DEM la possibilità di piazzare un proprio candidato, nello specifico il ministro Vincenzo Amendola. Ma non è semplice perché la crisi di governo è dietro l'angolo, con la presa di posizione di Italia Viva che potrebbe scompaginare tutto. E il governatore De Luca che non sembra disposto a stare a guardare mentre si decide il futuro del capoluogo. Resto la cronaca. Continuano a 360 gradi le indagini sull'omicidio del ginecologo napoletano di origini beneventane Stefano Ansaldi, ucciso a Milano sabato sera e con il passare delle ore. Prende consistenza l'ipotesi che non si è trattato di una rapina. Vediamo. Resta ancora fitto il mistero sull'efferato omicidio del professore Stefano Ansaldi, affermato ginecologo nato 65 anni fa a Benevento, che viveva da decenni a Napoli e trovato sgozzato sabato scorso a Milano, nei pressi della stazione ferroviaria centrale. Con il passare delle ore perde forza però l'ipotesi di una rapina finita male. Per ricostruire l'accaduto fondamentali saranno le testimonianze di familiari ed amici dello stimato professionista che sabato mattina era partito da Napoli sembra per incontrare delle persone ancora non identificate, ma sulle quali si sono ora concentrate le attenzioni investigative. Il dottore Ansaldi era arrivato alla stazione di Milano centrale in treno da Napoli intorno alle 14.50. Poi alle 16 sarebbe stato anche inquadrato dalle telecamere di sorveglianza nella zona della stazione. Pochi minuti dopo l'L18 alcuni passanti avevano poi rimenuto il dottore Ansaldi in Mia Scarlatti, angolo via Mauro Macchi, sotto i ponteggi che ricoprono un palazzo in ristrutturazione. È lì che il medico viene trovato agonizzante. Morirà poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Nelle ore successive al delitto gli investigatori avevano percorso la pista di una rapina finita male. Ma il ritrovamento del Rolex del medico è anche di quella che potrebbe essere l'arma del delitto, ovvero un lungo ed ingombrande coltello da pane hanno poi indirizzato i carabinieri del nucleo operativo di Milano a percorrere altre piste. Sciame sismico nell'area Flegrea, scosse a catena e sono previste anche nuove scosse nelle prossime ore che potrebbero arrivare ad una magnitudo anche di 4.0. La direttrice dell'osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco, spiega il sollevamento del suolo per il bradisismo è sempre più rapido. Ma per ora nessun allarme. Vediamo. Prima un ossame sismico con scosse di bassissima intensità poi nel cuore della notte. La terra dei Campi Flegrei ha vibrato più forte. Alle 22.54 con un terremoto di magnitudo 2.7, epicentro sul fianco della solfatara che affaccia su Pisciarelli. La profondità è stata di circa 2 chilometri, poi uno di magnitudo 2.3 nell'area dell'Accademia Aeronautica. Si tratta di terremoti avvertiti distintamente dalla popolazione, si tratta di episodi che rientrano nella norma di un sistema idrotermale attivo, come rimarca Francesca Bianco, direttore dell'osservatorio Vesuviano. Questo tipo di eventi ancora una volta ai Campi Flegrei si generano perché è in atto una crisi bradisismica, perché c'è un sollevamento che continua ad aumentare. Tuttavia negli ultimi due mesi qualcosa è cambiato. C'è stato un incremento della sismicità, in particolare microsismi, con 248 terremoti ad ottobre e 225 a novembre, i più alti dal 2005, quando è ripreso il bradisismo. Da settembre 2020 siamo passati da una velocità di sollevamento che era di circa 6 mm al mese, adesso siamo a un centimetro al mese. È comunque un episodio sismico che è completamente contestualizzabile nell'attuale fase bradisismica. Cioè ce li aspettiamo questi eventi purtroppo in questa fase bradisismica. Sconcerto nel Sannio dove ha perso la sua battaglia contro il Covid l'ex sindaco di Bonea, Gennaro Paradiso. Il medico era ricoverato al Sampio da diverse settimane. Vediamo. Ha perso la sua battaglia contro il virus Gennaro Paradiso, ex sindaco di Bonea. Paradiso aveva 67 anni ed era ricoverato da tempo nel riparto Covid dell'ospedale Sampio di Benevento. Sindaco per oltre un decennio nel 2011 aveva poi lasciato la guida del comune al giovanissimo figlio Salvatore. Un professionista notissimo era stato medico di base della comunità caudina per molti anni, lasciando l'incarico solo nello scorso settembre. Il Covid ha dato dunque solo qualche giorno di tregua al Sannio, dove già ieri aveva perso la vita anche un uomo di 66 anni di frasso telesino. Salgono dunque a 152 le vittime nell'osocomio Sannita dall'inizio della pandemia. Stabile il numero dei pazienti in area Covid che si attesta a 57. 16 i nuovi positivi censiti dall'ASL e torna a raccomandare prudenza il sindaco Mastella. Il vaccino è fondamentale, preferirei fosse un obbligo. Il virus è il nemico e per ora non se ne va. Chiedo a tutti di essere responsabilmente legati a questa situazione che richiede, anche arrivando molti da fuori, quindi arriveranno parenti, amici, a stare molto attenti, a magari a farsi il tampone prima o a vedersi nei modi che il governo ha ritenuto adeguatamente di poter determinare con la sua attivazione di decreto legge. Il Covid di Mirpinia non dà tregua, un decesso registrato in 24 ore e 9 nuovi casi a Montefalcione. Meno in affanno le terapie intensive. Vediamo. Il virus non dà tregua da Avellino ieri. Su 872 tamponi analizzati sono risultate positive 42 persone. Preoccupa la situazione a Montefalcione dove sono stati registrati 9 nuovi casi e 8 ancora nel capoluogo. Tregua per Montoro dove rispetto ai giorni scorsi oggi solo 2 casi. Meno in affanno anche gli ospedali a Frangipane di Ariano ricoverato un solo paziente in terapia intensiva. 8 invece in medicina Covid. Intanto questa mattina la manager dell'Asl, Maria Morgante, ha ricevuto una targa premio dall'UGL per la gestione Covid. Ed è stata anche occasione per ricordare il piano di vaccinazione Covid. La campagna vaccinale dovrà iniziare i primi di gennaio e abbiamo individuato i due punti di somministrazione che sono i due presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi dove naturalmente saranno sottoposte a vaccinazione tutto il personale sanitario e non dei presidi, dei dipartimenti, dei distretti, 118, le RSA per anziani, insomma tutte le persone più a rischio e più a contatto con il virus. Ripeto, è una campagna che inizia in questa prima fase, con queste categorie per poi iniziare su quella che è la popolazione tutta. L'obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione per cui sarebbe assurdo immaginare che i vaccini non ci sono. Al momento i vaccini ci sono, ci sono per queste categorie e man mano insomma saranno interessati il resto della popolazione perché dobbiamo comunque raggiungere l'immunità e quindi anzi bisogna spingere per convincere la popolazione che la vaccinazione è l'unico strumento per poterne uscire, almeno per il momento. Shopping, passeggiate e caos in centro a Salerno nell'ultimo fine settimana prima del Natale fioccano le multe a persone senza mascherina e bar e locali che non rispettano le ordinanze. Vediamo. I divieti da zona arancione e le ordinanze della regione non fermano la corsa allo shopping dell'ultimo fine settimana prima del Natale a Salerno. Caos e gente accalcata, soprattutto in centro, fioccano le multe a esercizi commerciali e bar negli ultimi sette giorni controllate dalla polizia 6.831 persone, 98 i cittadini sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina e l'uscita dal comune di residenza, ispezionati anche 1.388 esercizi pubblici, 9 quelli multati tra questi chi ha trasgredito al divieto di somministrazione di cibi e bevande nelle adiacenze del locale, mentre nelle ultime ore picco del grande esodo dal nord Italia, giunti a Salerno circa 50 treni e 5 pullman, controllate circa 350 autocertificazioni e più di 1.500 arrivi da fuori regione, task force di forze dell'ordine personale sanitario. Siamo qui per conto della ASL Salerno, agli arrivi dei pullman a piazza della Concordia, le persone che sono all'interno che scendono su Salerno devono essere controllata la temperatura, se c'è qualcuno che ha la febbre viene immediatamente segnalato al comune di residenza che deve andare in quarantena, questo è il lavoro che stiamo facendo, lo faremo fino al giorno 23. Intanto nel Salernitano continuano i decessi per Covid-19, vittime a eboli, mercato San Severino, San Valentino Torio e Scala, dove si è spenta a 102 anni Maria Carmela Di Pino. Nonna Carmela aveva sconfitto il Covid da poche settimane, non si fermano neppure i contagi in corsia, all'ospedale Ruggi, positivo un paziente nel reparto di neurologia. Le iniziative benefiche, l'associazione Asso gioca di Napoli, insieme ai carabinieri hanno consegnato questa mattina 400 giocattoli ai bambini di Forcella, vediamo. Scatta l'operazione Santa Claus, un'iniziativa ideata dall'associazione di volontariato napoletana Asso gioca, sostenuta da attori, intellettuali, artisti partenopei e dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli. Questa mattina sono stati consegnati 400 giocattoli nuovi, i primi regali sono stati distribuiti nel quartiere Forcella, insieme ai militari della compagnia di Napoli Stella. Io ritengo che queste festività natalizie, nel segno di quello che è il valore del Natale, il segno del Natale, saranno veramente l'occasione per poter godere di quelli che sono gli affetti più cari, il calore familiare, i parenti chiaramente conviventi. E allora noi non potevamo assolutamente far mancare ai bambini quello che è la magia, secondo loro, del Natale, il regalo di Babbo Natale. Ecco perché allora siamo veramente vicini a questa bellissima iniziativa dell'Asso gioca e cercheremo insieme a loro di portare i regali a casa di tutti i bambini. Rispetto agli altri anni che facevamo l'iniziativa in presenza, quest'anno abbiamo dovuto rimodulare Dona un giocattolo che regala un sorriso e quindi con i nostri volontari, insieme ai carabinieri, andremo direttamente a casa di ogni singolo bambino. E siamo arrivati a 400 bambini che riceveranno questo giocattolo, questo sorriso, direttamente a casa. Un anno fa l'alluvione a San Martino, Valle Caudina. Il sindaco Pasquale Pisano a To Channel dice impossibile dimenticare, ma ora dobbiamo evitare gli errori del passato. Sentiamo. Un anno dopo San Martino non dimentica e ricorda la frana che si è abbattuta sul torrente Caudino provocando nell'esondazione lo scoppio della piazza in pieno centro. Un miracolo che non ci siano state vittime. A distanza di 12 mesi la comunità irpina le prese con la ripartenza tra mille difficoltà, ma con quella voglia e quello spirito, tipicamente sanmartinese, di non mollare mai. Un evento che ha segnato la comunità sanmartinese l'anno passato. Abbiamo il dovere di non far dimenticare questi momenti difficili e trasferirle alle future generazioni. Un paese che dimentica è un paese che può compiere gli stessi errori in futuro. La fase della messa in sicurezza causa Covid ha frenato gli interventi di somma urgenza, per cui degli otto interventi programmati per circa 800 mila euro stanziati dalla regione Campania ne abbiamo ultimati sei. Mancano all'appello due interventi. Uno probabilmente è quello più importante per la comunità perché proverebbe a farci recuperare davanti alla piazza del comune quella normalità di cui la comunità sanmartinese normalmente ha bisogno. Voglio ringraziare il dottore Giulivo, il commissariato per l'emergenza della regione Campania, lo stesso governatore De Luca, la dottoressa Campobasso, che non hanno mai fatto mancare sia in termini di risorse sia in termini di suggerimenti e indicazioni il loro contributo per provare ad uscire da questa situazione di emergenza. E proseguono a rilento anche i lavori sul raccordo Avellino-Salerno. L'intervento sta provocando traffico e disagi alla viabilità. Il sindaco di Pellezzano chiede tempi certi all'ANAS anche in vista della riapertura delle scuole. Vediamo. Code, disagi e ritardi da quasi un mese. Lo scenario è sempre lo stesso sul raccordo autostradale Salerno-Avellino dove l'apertura di un cantiere nei pressi della Galleria di Cologna nel comune di Pellezzano ha mandato in tilt la circolazione provocando ogni giorno chilometri di coda. Di saggi denunciati dai sindaci della Valle dell'Irno nel corso dell'ultimo summit avuto con il prefetto e con i dirigenti dell'ANAS e che stanno congezionando anche la viabilità interna. Abbiamo chiesto di cercare di accelerare sui tempi di intervento, di messa in sicurezza del tratto autostradale subito dopo la Galleria di Cologna in modo da non creare troppi disagi alla circolazione anche sui centri urbani. Noi come calendario c'era stata già indicata una data che purtroppo non è stata rispettata. Come ultimo diciamo nuova data che ci è stata data per terminare i lavori è quella del 7 di gennaio di terminare anche perché poi prevediamo anche la riapertura delle scuole. Mora inoltre ha richiesto altri due interventi per provare a risolvere due problematiche che interessano il territorio della Valle dell'Irno. Abbiamo chiesto che vengano installati anche i pannelli fonoassorbenti e c'è stata anche una sottoscrizione da parte dei residenti. Inoltre nel tratto che va verso Avellino prima della Galleria di Cologna c'è una passazione di sosta che nell'ultimo periodo è presa di mira da parte dei ladri e che fanno effetto numerosi furti nella frazione di Cologna. Abbiamo chiesto anche l'installazione di una videocamera. A Benevento invece arriva un finanziamento che potrebbe finalmente permettere la conclusione dei lavori dell'incompiuta di Piazza Duomo. Vediamo. Una svolta per Piazza Duomo dove Benevento ha visto sorgere e poi fermarsi una delle più contestate strutture cittadine. Una storica incompiuta che da oltre un decennio è simbolo di abbandono proprio davanti alla cattedrale. Finalmente tutto potrebbe cambiare grazie al progetto di riqualificazione urbana per cui l'immobile collocato in Piazza Duomo è il risultato vincitore del bando Italia City Branding promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ottenendo un finanziamento di circa 800 mila euro a cui si andranno ad aggiungere altri 150 mila euro del bilancio comunale 2021. È il risultato annunciato dal sindaco Clemente Mastella e dall'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello. L'edificio oggetto della riqualificazione spiegano gli amministratori è collocato all'inizio della Buffer Zone Unesco. Recuperare quell'area urbana destinando la spazio sociale ed aggregativo consentirà di dar vita ad un nuovo polo attrattivo sia per i turisti che per l'intera comunità locale. È evidente hanno concluso che il riconoscimento del finanziamento per la progettazione prodromico alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell'opera per un importo di circa 8 milioni di euro. Un colpaccio riconosciuto anche dalle senatrici del Movimento 5 Stelle Sabrina Ricciardi e Danila De Lucia. Quello che ha deciso di mettere giù questa nuova modalità è il senatore turco. È un modo per avviare e rendere cantierabile delle opere, dei progetti che erano fermi come nel caso di Benevento da tanto tempo. Prevenzione ad Ariano nasce la prima parrocchia cardioprotetta. Vediamo. Fino a 70.000 morti improvvisi ogni anno, una persona ogni 1.000 abitanti. Solo un uso precoce della rianimazione cardiopolmonare da parte di personale formato anche non sanitario unitamente all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in attesa dell'arrivo del 118 può aumentare la sopravvivenza. Ad Ariano Iverpino, nel popoloso piano di zona, la prima parrocchia cardioprotetta grazie al grande impegno di Panacea. L'associazione Panacea ha donato un defibrillatore che rientra nell'attività del campus estivo dell'oratorio. Una bella giornata per questa parrocchia, per Don Alberto Lucarelli e per tutta la città di Ranirpino. Anche Ariano ha pagato un caro prezzo e anche in questo quartiere, Rioni Piano di zona, ci sono state delle vittime che forse magari potevano essere salvate. Oggi con la presenza del defibrillatore presso questa parrocchia c'è una maggiore rete di protezione e quindi ci auguriamo che si possa intervenire tempestivamente per salvare una vita umana che non apprezzo. Questo è il nostro punto di forza, è l'ossatura di questa città. La solidarietà, sono le associazioni, sono i singoli individui, sono i singoli arianesi che vogliono bene a questa città e che si mettono in discussione, si impegnano perché questa città abbia un futuro, abbia un futuro di fiducia, fatto di fiducia, di ottimismo, di solidarietà. Questo alto grado di amore che abbiamo tutti nei confronti di questa città. Non è l'unica ariano, lei così da defibrillatore. Non è l'unica ariano, non ci sono periferie, non c'è un centro, c'è soltanto ariano. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.